Amici di Ce la vediamo noi shopping, baciamo le mani, la faccia mia è schiacciata sotto i piedi vostri, Ce la vediamo noi shopping, prima offertona signori, chiamando al numero in sottimpressione, 800, 900, 4 deficienti, ripetiamo 800, 900, 4 deficienti, mi raccomando una cosa, i poveri non chiamate, i poveri non chiamate, vi riconosciamo dalla voce che siete poveri, vi ammazziamo, vi tagliamo pezzetti, vi sparpagliamo, avete capito? Ciao, molto bene signori, andiamo con la prima offertona della Ce la vediamo noi a livello personalmente, signori la prima offerta di questa sera, signori per la comunione della bambina, per la crescima di vostro nipote, signori si sta sposando anche la figlia, e allora quale migliore occasione per portare a casa vostra, direttamente tramite alcuni amici, combattimenti di pitbull, signori stiamo parlando di pitbull incazzati, infogliati di anfetamine, chiusi dentro la macchina, schiacciati al sole, Signori so pitbull, veramente, all'800, 900, 4 deficienti, telefonate adesso, e a casa vostra riceverete anche un'arena smontabile, signori pensate che bella la comunione della figlia, tutti i parenti lì, 700 posti di arena smontabile, mentre in mezzo si azzuffano questi pitbull, signori parliamo di Diablo, parliamo di breviti, a 7 ce l'abbiamo, parliamo di Taormina, signori so pitbull, molto bene, signori, chiamando adesso, in questo momento, l'800, 900, 4 deficienti, riceverete in omaggio anche direttamente dal Giappone, con l'arena smontabile, 15 pitbull, passiamolo un attimo, Gennaro, missili, signori, missili, Futsuka, massima affidabilità dal Giappone, signori, questi sono missili che non sbagliano, questi sono missili che vanno direttamente all'obiettivo, signori Futsuka, e Kimmo Suka, 800, 900, 4 deficienti, telefonate che ce la vediamo noi a livello personalmente!